Sono Bruno Marengo, nel 1974 ero vicesindaco di Spotorno e facevo parte del gruppo dirigente della federazione di Savona del Partito Comunista Italiano. Nel 1974 è stato l'anno delle bombe di Savona e tutto quello che ne conseguì. Dal punto di vista personale il ricordo è, a partire dal primo episodio, dal primo attentato, in avanti, quando si cominciò a ragionare, io appunto facevo parte del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano, avevo dei compagni ben più autorevoli e esperti di me, cominciamo a ragionare su cosa poteva essere il motivo, la ragione di questo attentato, cosa ci poteva essere dietro, eccetera. Poi i fatti si sono susseguiti, c'è stato un periodo di stasi dal primo a quello successivo, sembrava che la cosa fosse un episodio isolato, invece poi è partita la successione di attentati con effetti molto gravi, morti, feriti e fortunatamente in certi casi poteva anche andare peggio, potevano essere anche più le vittime rispetto a quello che è accaduto, poi ci sono stati episodi che hanno consentito che la cosa non fosse più grave, quindi si è posto subito da una parte cercare di risalire un po' le cause, le ragioni, cosa ci poteva essere lì e dall'altra a organizzarci per far fronte a queste vicende. A tenere conto che venivamo dagli attentati delittuosi, Piazza Fontana di Milano, poi Brescia, c'erano state tutta una serie di attentati, c'erano state vicende di servizi deviati, c'erano state vicende di indagini che furono viziate, l'accusa agli anarchici, tutte queste questioni per cui in noi era ben presente questo dato, cioè che questi episodi che avevano preceduto i fatti di Savona ci davano un po' un'immagine di un'Italia che era stata attraversata da tentativi colpisti, da vicende poco chiare, eccetera, e che c'era anche la consapevolezza che gli attentati precedenti gravissimi non avevano avuto dal punto di vista dell'indagine, eccetera, quello che doveva essere. Questa vicenda delle accuse agli anarchici di Valpreda, poi la tragedia di Pinelli, eccetera, ci davano un quadro di fortissima preoccupazione. Io ricordo ancora che eravamo nel 72, c'era il congresso nazionale del Partito Comunista Italiano a Milano, ci fu l'esplosione in cui morì Feltrinelli, io ricordo una riunione durante il congresso con Berlinguer, in cui Berlinguer ci parlò chiaramente di rischi per la democrazia, di torbi, di rischi, tant'è vero che poi partì dopo le vicende del cilene, del golpe cilene, dell'assassinio di Allende, partì quella proposta politica di Berlinguer, dal Partito Comunista Italiano, del compromesso storico che secondo me poi suscitò delle situazioni per impedire che questo processo andasse avanti. C'erano degli interessi politici internazionali, l'Unione Sovietica non era assolutamente d'accordo su questa prospettiva, tanto meno gli Stati Uniti. La proposta era di rompere questa spaccatura verticale che c'era nel paese e quindi costruire una possibilità di un terreno politico di confronto, anche di scontro, ma che portasse a un avanzamento dell'Italia, con un senso di responsabilità da parte di tutti. Si pose dunque il problema del presidio della città e non solo della città, perché gli attentati avvennero anche fuori dalla città di Savona, un'organizzazione di presidi, di controlli del territorio. Ci fu la formazione del comitato antifascista che era presieduto da Urbani e da Speranza, con tutti i partiti dall'arco costituzionale, con la CGL e la Cisla Will, che era il centro motore della direzione di questo processo. Poi c'era tutta un'articolazione, Savona fortunatamente aveva iniziato con questa esperienza dei comitati di quartiere, quindi una capacità a organizzare i turni di vigilanza eccetera. Nei quartieri consigli di fabbrica che operavano anche con una certa autonomia e quindi prendevano decisioni a volte molto rapide, sia di vigilanza sia anche di risposte, naturalmente coordinate dalle confederazioni sindacali per le grandi iniziative, gli scioperi che ci sono state, le manifestazioni, i grandi cortei eccetera. Io ricordo che c'era un coordinamento, c'erano degli incaricati che avevano, che poi venivano rilasciati come dei certificati in cui uno veniva qualificato, che aveva un ruolo di collegamento eccetera, che attestavano che non erano passati di lì per casa. Ricordo che c'era dei Vincenzi Kid e Nilo Calvi, due ex partigiani, che facevano proprio da coordinamento. Io che ero vice sindaco di Spottone, a Spottone ad esempio abbiamo organizzato un comitato, c'erano tutti i partiti dell'arco costituzionale, sindacato, l'AMPI, l'FWL, l'Associazione dei Combattenti, le ACLI e attraverso questo comitato noi organizzavamo i presidi, i controlli e ci coordinavamo naturalmente col centro, con Savona attraverso questi contatti che venivano da questi compagni incaricati e avevamo un punto di riferimento noi di Spottone a Vado, il sindaco era Foretto Moracchioli che faceva un po' da coordinatore di tutta la zona. Quindi il nostro impegno era di partecipare in tutte queste occasioni sia dal punto di vista di impostazione organizzativa e poi di essere presenti sul territorio, io ho fatto parte di gruppi di vigilanza, di notte nelle scuole, in posti considerati sensibili, come tanti, la cosa bella è che ci fu una partecipazione molto larga, molte persone che non si erano mai occupati né di politica né facevano parte del sindacato direttamente o dei partiti eccetera, si dichiarano disponibili e questo modo di operare rese possibile anche dei contatti umani molto importanti, rompendo certi steccati, a volte che c'erano certe diffidenze comunisti, democristiani, questo clima, invece poi con la conoscenza diretta, con la passione che si metteva per il bene comune, ci fu questo scambio che fu un processo veramente importante. C'è Umberto Scardaoni in un intervento al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano che dopo i fatti parlò proprio di questo, cioè della partecipazione, del significato profondo di un modo di operare, di agire anche in prospettiva, lui lo legò naturalmente a quella che era la proposta politica del Partito Comunista Italiano, di questo processo di compromesso storico che non era un fatto verticistico per cui a un certo punto qualcuno andava al governo, ma era la costruzione dal basso e la rottura di questi steccati verticali che non aveva ragione d'essere. Poi ci potevano essere i confronti, gli accordi, gli scontri, ma su un terreno che guardava al bene comune, alla prospettiva, una prospettiva che purtroppo tragicamente fu interrotta dall'assassinio di Moro. Io ho sempre avuto l'opinione, non solo io, ma che Moro fosse morto proprio perché era un protagonista primo di questo processo che poteva portare l'Italia a momenti di progresso nella modernizzazione del paese. Io ricordo ad esempio che per quello che era la vigilanza diretta che io svolgevo in larga parte, anche a Savona mi è capitato qualche volta, ma soprattutto a Spotorno dove io vivevo, dove facevo il vice sindaco. Quindi nella distribuzione di questi gruppi di vigilanza che erano misti, c'erano i carabinieri, perché una cosa da dire è che questa vigilanza avveniva in stretto contatto con le forze dell'ordine. Non è che qualcuno aveva insinuato, c'erano state anche delle polemiche, si volevano fare delle milizie, non era questo. C'erano dei volontari che collaboravano con le forze dell'ordine, che dirigevano quello che doveva essere il fatto proprio delle forze dell'ordine. Quindi a me è capitata ad esempio, nella distribuzione di questa una sera sono capitato con la macchina dei carabinieri, con il maresciallo del mio paese che io conoscevo molto superficialmente, abbiamo passato una notte con la macchina girando eccetera, ci siamo scambiati elementi di vita, la famiglia, i figli, le preoccupazioni, con una persona con la quale io non avevo mai scambiato se non per fatti del comune, per fatti diciamo formali eccetera, è stata una salata, uno scambio che mai mi sarei immaginato e questo avveniva quotidianamente. Adesso cito questo episodio, ma capitava in queste situazioni in cui le persone le più disparate, che prima magari non si salutavano neanche per strada o che comunque non avevano questa possibilità di confronto, nella preoccupazione eccetera, ma nello stesso tempo di fare qualcosa per il bene comune. Io ricordo le manifestazioni, una venne Macario, importantissima, che è Macario tra l'altro, richiamò proprio con forza che dovevano essere colpiti gli estremismi di destra, questi fascisti eccetera, fece un discorso molto molto netto e duro in sostanza. Una grande manifestazione, le preoccupazioni col servizio d'ordine dei sindacati, dei consigli di fabbrica, manifestazioni organizzate con grande sapienza, perché furono manifestazioni in cui c'era la protesta, c'erano i canti, ma non ci fu mai qualcosa che… no, c'era anche, lo dico questo come elemento, c'era una critica forte che veniva dal Comitato Unitario Fascista, dei partiti, dal sindacato, su come venivano condotte le indagini, perché mano a mano che si andava avanti, poi di fatti nei tempi successivi il procuratore della boccia fu censurato e poi trasferito in tempi successivi, ma comunque c'era una riserva fortissima, una critica a come venivano condotte le indagini, era uscito fuori anche una dichiarazione di un, credo fosse un poliziotto o comunque un uomo delle forze dell'ordine, che diceva che aveva la sensazione che quando arrivavano vicino a qualcosa poi venivano trasferiti da un'altra parte, c'era questo clima, ma questo però non aveva minato il fatto del rapporto diretto con le forze dell'ordine, della collaborazione, c'era la critica fortissima rivolta al governo, all'autorità preposta e nello stesso tempo però ci si trovava e queste manifestazioni sono state l'esempio della compostezza, certo c'era una città che era angosciata, che si ribellava a queste violenze eccetera, manifestava con forza, chiedeva giustizia, chiedeva giustizia che non arrivava, perché le indagini erano come erano, in queste manifestazioni c'eravamo Savonese, la provincia, ma venivano i portuali di Genova, le fabbriche di Genova, c'era un'adesione enorme, erano manifestazioni, però con la vigilanza, con la compostezza, con che nessuno può dire che fosse successo qualcosa che non doveva, che fosse fuori dalle righe. In effetti ci sono stati tanti momenti, l'Istituto Storico della Resistenza, di Scardaoni, Lampi, il mondo della scuola con progetti eccetera, ci sono stati momenti di riflessione su questa vicenda. Certamente rispetto anche ai tempi che viviamo oggi meriterebbe proprio un esame, un'analisi di cos'è stata questa risposta, di cos'è stata la corralità, il superamento dell'individualismo, di uno che fa i fatti suoi, ma invece generosamente anche da persone che prima non. Credo che oggi sarebbe necessario avere questo sentimento verso il prossimo, verso il paese. Nella tradizione della città di Savona, questo episodio che è stato ricordato della prima vittima dell'attentato di Via Giacchiero, sta nel modo di agire della città di Savona, tutte le vicende storiche eccetera sono state sempre ricordate con cippi, con targhe eccetera, ancora recentemente Lampi ha fatto porre delle targhe che ricordano perché certe vie sono intitolate il 25 aprile, i caduti, i martiri, con una spiegazione della vita di ognuno. La città è stata, delle vie della città oltre alla targa a chi sono dedicate, c'è la spiegazione, la vita eccetera. Questo è stato un lavoro importante perché si rifà un po' la storia in sostanza, perché uno vede una via, dice via 25 aprile, c'è una via dedicata a un caduto, un martire eccetera, c'è la spiegazione della vita, del perché, di cos'è successo eccetera. Quindi in questo Savona ha sempre onorato i suoi caduti, anche quelli più come in questo caso della Fannina Allarico, con un ricordo, con una presenza che resti nel tempo. Quello che invece dovrebbe essere di più analizzato, riportato nella scuola e nella formazione di giovani generazioni sta poi di riuscire, quello che dicevo prima, dalla storia più recente a riuscire a fare senza faziosità, ma con i dati alla mano, con quello che si è poi raccolto anche successivamente, fare un esame. E dire anche che quelle condizioni che si crearono allora, il presupposto fu che una città come Savona, di tradizione operaia, di tradizione antifascista, dico in primis, prima ancora di dire comunista, socialista, emocristana, dico una forte tradizione antifascista, sentimento antifascista, e anche la formazione, diciamo, di generazioni che accedevano alla politica fatte in un certo modo, rispetto a quello che avviene oggi, credo che questo sia un punto non secondario. Noi avevamo, c'era la maggioranza, la minoranza, il consiglio comunale, eccetera, scontri, eccetera, ma il clima era un clima di rispetto in primo luogo, io non ho mai avvertito odio, ho sempre avuto a che fare, ho fatto anche il sindaco, ho fatto l'assessore, il vice sindaco, ma dal punto di vista dei rapporti che intercorrevano tra le forze politiche, che governassero, che fossero la posizione, c'era un rapporto di stima, nel senso che si contestava, non si condividevano le scelte, anche polemiche piuttosto dure, ma restava il rispetto delle persone. Questo è un clima che si è perso, un modo di agire dalla politica che si è perso, che l'analisi dovrebbe essere più articolata e profonda, diversi mezzi di comunicazione, negli slogan, il modo di lanciare la notizia, il messaggio, quello che conta nel momento, i sondaggi che sono sempre la prima cosa, eccetera, rispetto invece a una conduzione di uno che è chiamato una carica pubblica, dovrebbe essere quella di considerare con rispetto a quelli che gli si oppongono e quindi confrontarsi sul merito, riuscire a far arrivare il merito alle persone. Questo è un grande tema che purtroppo oggi noi viviamo malamente, soprattutto ancora in questa vicenda della pandemia, in cui ben altro senso di responsabilità ci vorrebbe per affrontare questa drammatica situazione in un paese piegato. Gli anni 70 che vengono ricordati appunto come fatti di terrorismo, c'erano le Brigate Rosse, l'assassinio di Moro, vicende terribili, Guido Rosse, eccetera, sono anni che vengono etichettati come anni tremendi, ma furono anni fecondi dal punto di vista di grandissime riforme che andarono avanti, grazie a una condizione politica, si sciva dal 68, ci sono forze politiche che hanno capitalizzato questi moti, sia studenteschi che operai, ma poi c'era un clima che consentiva di andare avanti anche nelle posizioni contrapposte, perché il referendum sul divorzio, poi ci fu l'aborto, avvenne in termini di scontro politico molto forte, ma comunque si andò avanti. La riforma sanitaria, lo statuto dei lavoratori, del diritto di famiglia, tutto un processo degli anni 70 fecondo, che fu garantito perché c'era un certo clima politico che consentiva, nonostante il terrorismo, nonostante la reazione, nonostante chi voleva impedire queste cose, si andò avanti, il paese progredì e ci dobbiamo mettere tutte le forze politiche che si impegnarono in questo. Io non faccio adesso una petizione per il mio partito, per il partito comunista, ma chi era in campo, a volte anche scontrandosi, ma comunque non si interruppe mai quella strada o quel canale che portò a dei grandi risultati. A mio giudizio l'assassinio di Moro interruppe questo processo che poteva andare avanti, Moro fu sacrificato a delle esigenze, sia per questioni di carattere internazionale, eccetera, sia per questioni interne che volevano impedire questo processo. Credo che l'Italia abbia pagato in questo senso. C'era almeno la percezione in noi, io ricordo quando arrivò la notizia dell'assassinio di Moro, che Scardoni, uscimo con la bandiera della federazione, andammo sotto la sede della DC, che era in via Cesare Battisti, per solidarietà. E in noi era molto presente che si stava creando una situazione con questo assassino terribile, cosa che poi avvene dal punto di vista di poter proseguire quel cammino riformistico di avanzamento.